l'ho visto luca non rimane sul posto il sesso si fa quanto è brutto sembra sembra quello che c'è al semaforo sotto casa mia eccolo qua per cercare sta cosa abbiamo acchiappato gol bravi bravo nabbo nabbo punizione a 46esimo ma che cazzo si entra la partita in greconia mamma che è brutto